Anna Bulgaresi, nuovo presidente della conferenza dei sindaci sulla sanità. Il sindaco di Marciana succede a Mario Ferrari che ha dato le dimissioni. Si va avanti con il documento Elba, dicono i primi cittadini, con una ritrovata unità sugli obiettivi da raggiungere per la sanità elbana. Telecamere contro i rifiuti selvaggi. L'amministrazione comunale di Marciana Marina ha deciso di posizionare quattro occhi elettronici con tanto divisore notturno per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che sta scatenando una vera e propria guerra con Marciana. Porti e infrastrutture elbane. È necessario un coordinamento. La proposta sulle grandi opere del sindaco Riese De Santi, che solleva anche una questione. Si pone un problema importante di strategia portuale, cioè di equilibrio, tra la consistenza dimensionale tra Piombino e i porti elbani. Nuovo piano per Porto Azzurro, possibile l'uscita dallo stato di crisi. Migliorano i conti. Il sindaco, la situazione è molto cambiata e non giustifica più il commissariamento. Entro il 31 luglio l'ok al bilancio. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dell'Isola d'Elba. Questa sera in apertura parliamo di sanità, della conferenza dei sindaci sulla sanità. Anna Bulgaresi è il nuovo presidente della conferenza dei sindaci. Il sindaco di Marciana succede a Mario Ferrari, che ha dato le dimissioni e ha chiesto di essere sostituito. Soddisfazione tra i primi cittadini elbani che dicono si va avanti con il documento Elba, con una ritrovata unità sugli obiettivi da raggiungere per la sanità elbana. Cambio al vertice della conferenza zonale dei sindaci elbani per la sanità. Il presidente è Anna Bulgaresi, con una votazione all'unanimità dopo che, alla riunione di questa mattina, il sindaco di Portoferraio, Mario Ferrari, ha presentato le dimissioni da presidente chiedendo di venire sostituito. Un passaggio di testimone che era nell'aria dopo le esternazioni dei giorni scorsi di Ferrari, che ha preso le distanze dal documento Elba sottoscritto da tutti i primi cittadini. Oggi un nuovo corso per il consesso dei sindaci elbani, ma anche una nuova ritrovata unità di intenti, nonostante l'uscita dalla riunione del sindaco Ferrari, con un no comment su quanto deciso. Usciamo rafforzati dal confronto, hanno detto i sindaci. Il sindaco Ferrari lascia la presidenza per i troppi impegni che comporta il suo ruolo. Abbiamo nominato il nuovo presidente, si va avanti con il documento Elba, che presenteremo quanto prima l'assessore regionale alla salute, che ha annunciato a breve una visita all'Elba. Rimane quindi il netto rifiuto al distretto unico con Cecina e Piombino, a meno che il presidio non si faccia all'Elba, puntualizzano i primi cittadini. Ma il discrimine tra il documento Elba e la nuova proposta di Ferrari di questi ultimi giorni resta sul rifiuto della rete, non alla rete medica che sarà comunque necessaria soprattutto per quanto riguarda la specialistica, quanto di quella che punta a far rientrare l'Elba nel distretto di Cecina e Piombino. Non riteniamo, hanno commentato Bulgaresi e gli altri sindaci, che la rete distrettuale con i due ospedali della provincia sia la soluzione per la nostra sanità insulare, non garantisce quello che chiediamo. Argomentazioni su cui concordano i comitati albani per la sanità soddisfatti del cambio alla presidenza e della ritrovata unità degli amministratori nel perseguire gli obiettivi stabiliti nel documento Elba. Questo è il giusto epilogo di un travaglio drammatico, ha commentato il consigliere portoferraiese di cambiare in comune, Alessia Del Torto. Parliamo ora di quella che si è rivelata come una vera e propria guerra dei rifiuti tra Marciana e Marciana Marina. Ora arrivano le telecamere contro i rifiuti selvaggi. L'amministrazione comunale marinese infatti ha deciso di posizionare quattro occhi elettronici con tanto divisore notturno per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che appunto sta generando una guerra con il comune di Marciana. La querelle tra Marciana e Marciana Marina, nota come guerra dei rifiuti, si arricchisce di un nuovo episodio. Il sindaco marinese Andrea Ciumei ha deciso di attivare un sistema di telecamere con tanto divisore notturno per pizzicare i furbi della monnezza. Stufo di vedere il territorio da lui amministrato in vaso dei rifiuti dei marcianesi, che pur di non sobbarcarsi la differenziazione, trasformano le loro autovetture in camion per il pattume e lo vanno a riversare nel territorio di Marciana Marina, Ciumei ha deciso di acquistare quattro telecamere per scoraggiare il fenomeno. Abbiamo deciso di correre ripari, spiega Ciumei, perché i nostri cittadini non possono subire un aumento spropositato della tassa sui rifiuti, a causa della testardaggine del sindaco di Marciana e del suo consulente, che non hanno voluto tenere conto delle osservazioni da noi fatte in via preliminare. Già nel mese di aprile avevamo allertato il comune di Marciana su quello che sarebbe potuto accadere attuando il porta a porta spinto. Un'esperienza, dice Ciumei, che noi sperimentammo nel 2009 con risultati poco confortanti. Le telecamere serviranno per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, a volte anche pericolosi, prodotti altrove. Dobbiamo fermare soprattutto l'abbandono dei rifiuti ingombranti, come scarti di cantiere e attività commerciali. La situazione è insopportabile, conclude Ciumei, e non vogliamo sobbaccarci costi economici che non ci competono, oltre che ricevere gravi danni di immagine legati all'alterazione dei nostri ottimi risultati in tema di differenziata, che si attestano intorno al 60%, con tanto di certificazione regionale. Per i porti e le infrastrutture elbane è necessario un coordinamento. La proposta sulle grandi opere arriva dal sindaco riese Claudio De Santi, che solleva anche un'altra questione. Si pone un problema importante, dice De Santi, di strategia portuale, cioè di equilibrio fra la consistenza dimensionale tra Piombino e i nostri porti elbani. La situazione delle infrastrutture realizzate, soprattutto portuali, è clamorosamente sbilanciata a favore di Piombino, rispetto a quelle che sono le necessità dell'Elba. Proprio alla conferenza dei sindaci, un'iniziativa urgente fra le istituzioni competenti a parlare è Claudio De Santi, sindaco di Rione dell'Elba, con una iniziativa destinata sicuramente ad avere un seguito importante. Luciano Guerrieri, nella sua veste di commissario, già presidente dell'autorità portuale di Piombino e del Baricorda De Santi, in una lunga intervista su Un Quotidiano fa il punto sull'andamento delle grandi opere infrastrutturali che hanno interessato il porto di Piombino e conclude dicendo che adesso tocca il potenziamento della viabilità completamento della 398 affinché non si determinino fenomeni di strozzamento del porto. Non possiamo pensare, dice Guerrieri, di non avere un collegamento efficace. Per tutti questi lavori portuali e alla viabilità si calcolano spese per oltre 200 milioni di euro. Tutto bene, complimenti all'attivissimo Guerrieri, adesso però, continua il sindaco di Rio Elba, si pone un problema importante di strategia portuale, cioè di equilibrio fra la consistenza dimensionale fra il porto di Piombino e i due porti elbani, Porto Ferraio e Rio Marina, che fanno parte dello stesso sistema funzionale governato dall'autorità portuale gestita dallo stesso Guerrieri, con un evidente sbilanciamento a favore di Piombino, benché, a suo tempo, designato anche dai due sindaci elbani. Ma chiede Claudio De Santi che fine ha fatto il progetto del nuovo porto di Rio Marina, a suo tempo elaborato proprio dall'autorità portuale, è stato abbandonato e la viabilità di collegamento ridotta a strade e stradelli indecenti? Perché di questo Guerrieri non si occupa? Lo dico non per gusto polemico, ma per invitarlo costruttivamente ad impegnarsi, insieme alla regione e dagli stessi sindaci elbani, a promuovere un tavolo di lavoro per affrontare il tema della capienza e della sicurezza dei porti elbani, della viabilità di accesso agli stessi. Sono convinto, conclude il sindaco di Rio Elba, Claudio De Santi, che un così forte sbilanciamento fra la situazione di Piombino e quella dell'Elba non giovi a nessuno, tantomeno all'economia turistica e non depone bene sull'immagine delle istituzioni preposte al governo del territorio. Andiamo ora a Porto Azzurro che ha presentato un nuovo piano di riequilibrio che lo potrebbe portare presto fuori dallo stato di crisi. Migliorano i conti infatti nel comune. Il sindaco Simoni dice la situazione è molto cambiata e non giustificherebbe un commissariamento del nostro comune. Intanto, entro il 31 di luglio, l'ok al bilancio di previsione. E ora la situazione dei conti pubblici di Porto Azzurro. Il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo piano di riequilibrio economico e finanziario che contiene novità rispetto a quello attualmente in esame presso la Corte dei Conti di Firenze, di cui l'amministrazione attende ancora il pronunciamento. Il nuovo atto fotografa la situazione dell'ente e annuncia le attività dell'amministrazione per risanare la situazione come previsto dal decreto 1000 proroghe per i comuni che si sono trovati in difficoltà economiche. Stiamo aspettando l'esito del piano di riequilibrio presentato alla Corte dei Conti di Firenze, dice il sindaco di Porto Azzurro Luca Simoni. Nella frattempo presenteremo questo atto che mostra una situazione molto cambiata rispetto al precedente. Il precedente piano di riequilibrio era stato rigettato dalla Corte dei Conti regionale, una decisione su cui il Comune ha presentato ricorso, accettato dalle sezioni unite della Corte dei Conti di Roma, che ha riportato l'atto all'esame della sezione fiorentina. Il nuovo atto approvato dal Consiglio Porto Azzurrino intanto contiene novità rilevanti per l'ipotesi di rientro alla luce delle contrattazioni che il Comune ha portato avanti con Esa. Nell'atto viene dato conto del riconoscimento dell'indenità di disagio ambientale a Porto Azzurro e del pagamento alla società che gestisce il ciclo dei rifiuti delle fatture in evase. Siamo in una situazione, commenta Simoni, che non giustifica allo stato attuale il commissariamento di questo Comune. Il 31 luglio approveremo il bilancio come previsto dalla normativa, ma possiamo dire che dopo tre anni di sacrifici e di economia siamo riusciti a migliorare notevolmente la situazione. Raccogliamo i frutti di questi anni in cui abbiamo risparmiato su tutto. Non siamo molto diversi da altri Comuni, continua Simoni, Comuni che stanno avendo difficoltà visti i tagli effettuati dal Governo centrale sui trasferimenti. Il piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Comunale sarà inviato alla Corte dei Conti regionale nella speranza, termina il sindaco, di uscire presto dall'emergenza che dura ormai da tre anni. Andiamo ora nel capoluogo Albano, nella nostra Porto Ferraio. 800 piantine sono state posizionate per abbellire la città. Il campione di enduro, Fabio Fasola, le ha donate e dice ho cercato di fare qualcosa per il verde pubblico dopo tre bandi annullati. Spero di dare una mano all'amministrazione comunale e che altri privati intervengano per dare un aiuto perché termina Fasola Porto Ferraio ne ha veramente bisogno. 800 piantine multicolori di Petugne stanno, finalmente, rallegrando da qualche giorno la calata di Porto Ferraio e la piazza del centro storico. Le ha donate un privato, Fabio Fasola, al comune di Porto Ferraio dopo la polemica che infuria da giorni sull'immagine della nostra città e dell'abbandono del verde pubblico. Sono riuscito a fare questa operazione poi grazie anche ad amici, grazie anche, diciamo, tra virgolette a Sponso perché poi anche il giardiniere che ha partecipato a questo anche lui ha partecipato a dare una mano al comune, all'amministrazione perché effettivamente l'amministrazione mi sembra cioè è un po' ingessata ingessata per tanti problemi perché il verde pubblico c'è un bando che è stato sbagliato già per tre volte per cui c'è sicuramente qualcosa che non va perché uno che sbaglia un bando per tre volte o lo si manda a fare l'usciere in uno zoo. Sicuramente il fatto che il privato comincia a dare una mano aiuti per abbellire quello che è la città partendo soprattutto da quello che poi è il biglietto da visita perché la calata è un po' il biglietto da visita di Porto Ferraio chiunque arrivi arrivi in calata e aver trovato questo degrado e aver vissuto un po' questo degrado mi è sempre un po' dispiaciuto per cui ho cercato di fare il possibile e ci sono riuscito anzi spero di esserci riuscito per far sì che questa amministrazione abbia ancora una volta in più uno spirito di muoversi di darsi da fare perché effettivamente Porto Ferraio ne ha bisogno e penso e spero che anche altri privati possano contribuire a dare una mano soprattutto un aiuto perché effettivamente Porto Ferraio ne ha veramente bisogno. Diciamo che le piantine sono circa 800 mi sembra sono state posizionate in tutta la calata e adesso sono entrando anche nella parte di Piazza Cavour questo è quello che sono riuscito a fare finora sicuramente magari in futuro si riuscirà a fare anche qualcos'altro però mi sembra anche abbastanza purtroppo le forze sono queste e penso che sia un inizio o un biglietto da visita che ho presentato per far sì che altri si possono fare avanti per dare un aiuto per abbellire questa città che veramente ne ha bisogno. Ben ritrovato in studio e purtroppo torna l'emergenza sangue estiva quindi torna anche l'appello dell'Avis per le donazioni il bisogno di trasfusioni purtroppo non va in vacanza e Leonardo dice le difficoltà registrate negli ultimi mesi per avere adeguate scorte purtroppo non è migliorata anzi sembra aggravarsi. Il bisogno di sangue non va mai in vacanza in estate si assiste ad un calo delle donazioni ma il numero di persone che ne ha un estremo bisogno non cala mai il sangue è un farmaco non riproducibile in laboratorio ma ottenibile solo dalla donazione di persone che generosamente mettono a disposizione una parte di se stessi per il bene di qualcuno che non conoscono la situazione di difficoltà che abbiamo registrato negli ultimi mesi per avere adeguate scorte di sangue purtroppo non è migliorata anzi sembra aggravarsi la Toscana è fra le regioni con il maggior numero di donazioni ma anche fra quelle dove si fa un grande uso di sangue la difficile situazione delle scorte di sangue a livello regionale ricorda Dante Leonardi presidente della sezione Avis di Portoferraio in questi ultimi giorni comincia a farsi sentire anche a livello locale determinando delle criticità tali da costringere responsabili sanitari locali a far fronte alle richieste con crescente difficoltà la nostra sezione ricorda Leonardi non può che rinnovare l'invito ai donatori associati affinché facciano il possibile per rispondere positivamente alle chiamate delle associazioni con la speranza che altri cittadini in età compresa fra i 18 e 65 anni con un peso corporeo superiore ai 50 kg in buone condizioni di salute valutino positivamente la possibilità di diventare un donatore periodico di sangue c'è una grave carenza dei seguenti gruppi A negativo 0 negativo e 0 positivo mentre per i gruppi B e AB le scorte sono critiche donare il sangue è una responsabilità di tutti conclude Leonardi se sei disposto a darci una mano noi ti chiediamo un braccio sabato 11 luglio la serata finale del premio letterario Brignetti il presidente Brandani dice un'attività che in realtà dura tutto un anno e che riesce a fare entrare il nostro premio rispetto ai più di 2000 che ci sono in Italia nella top 30 delle case editrici durante la serata premio speciale al libro La fatica della politica di Danilo Alessi il premio letterario internazionale Isola Delba Raffaello Brignetti verso la serata conclusiva di questa 43esima edizione sabato prossimo al centro dell'Oge è un'attività che però nella realtà è durata tutto l'anno perché il premio articola da diverse attività basti pensare ad esempio che in settimana con il titolo verso il premio ci sarà la mostra di Mario Luzzi con Bolano dove il premio parteciperà con un raro firmato della televisione svizzera oppure altre iniziative che sono state prese nel corso dell'anno come la presentazione di autori significativi per quanto riguarda questa premiazione noi riteniamo ne parlerà poi Barzotti di avere tre opere di valore assoluto che concorrono alla vittoria finale che confermano il livello culturale del premio avremo poi anche un ricordo del nostro grande collega Neri che è scomparso e che è stato per noi sempre un sicuro punto di riferimento dal punto di vista della presenza femminile avremo la conferma della presentatrice della serata che sarà la bravissima giornalista Lisa Marzoli che un po' tutti gli italiani conoscono perché conduce da tre anni cronache animali sul Tg2 che nelle famiglie va a ruba e avremo poi una colonna di forum Valeria Altobelli che aiuterà a condurre la serata vorrei anche dire delle difficoltà che ci sono nell'organizzare un premio in questo senso vorrei ringraziare in primis tutti gli sponsor poi il comune di Portoferraio il suo assessore alla cultura perché sicuramente è importante che il tessuto locale si renda conto che questa manifestazione che le case editrici considerano nelle prime 30 considerando che in Italia ci sono 2100 premi letterari penso che possa far bene all'intera isola d'Elba Professor Barzotti anche quest'anno tre opere la terna finalista una terna insomma di opere molto valide di cui poi sabato conosceremo il vincitore certo quest'anno sono usciti fuori tre romanzi tutti e tre degni di essere nella terna finalista sono romanzi molto diversi tra loro uno di Marco Missiroli a teoscene in luogo privato è una storia che in qualche modo narra l'educazione sentimentale e sessuale di un giovane quello della scrittrice Carmen Pellegrino cade la terra è invece un romanzo molto originale che in qualche modo si occupa di luoghi e persone abbandonate che lei però vuole riportare alla memoria perché i morti non devono essere mai tali ma sempre vivi nella memoria delle persone e infine il romanzo di Domenico Starnone Lacci è la storia di una famiglia di una crisi familiare non banale però ma raccontata con una originalità assoluta a tre voci e quindi anche esso ha meritato in qualche modo di essere inserito nella terna ci saranno anche altre iniziative durante la serata finale c'è un'altra iniziativa intanto importante come già ha ricordato il Presidente è una commemorazione del nostro giurato Neri che purtroppo è deceduto quest'anno e poi ci sarà un premio speciale a Danilo Alessi per il suo libro Fatica della politica che è una storia intrigante di rapporti amorosi e politici nella elba degli ultimi decenni del Novecento Roberto Marini Assessore alla Cultura del Comune di Portoferraio anche quest'anno una collaborazione importante con il premio letterario Brignetti ormai è una proficua collaborazione con il Comune di Portoferraio che dura da anni si sostanzia oggi nella 43esima edizione il Comune di Portoferraio è a fianco del premio a fianco degli organizzatori e questo percorso il percorso di quest'anno è stato caratterizzato appunto dalla presentazione della Terna dei finalisti ci sarà una settimana che ci preparerà al momento finale alla premiazione dell'undici sera alla caserma dell'Auger e sarà una settimana dedicata a Luzzi quindi verso la 43esima edizione del premio letterario con Mario Luzzi e in collaborazione con Bolano quindi il Comune di Portoferraio è molto presente e tiene a questa manifestazione perché è una manifestazione non solo del Comune ma è una manifestazione dell'Elba tutta perché dobbiamo parlare di Elba non dobbiamo limitarci ai confini di ciascun di ciascun Comune quindi 43esima edizione del premio internazionale letterario Isola d'Elba Raffaello Brignetti con il Comune di Portoferraio ma dall'Elba e per l'Elba Parliamo ora dell'incontro della musica con il fascino delle miniere tutto questo con il Magneti Festival da giovedì 9 a lunedì 13 luglio La miniera del Ginevro a Capoliveri ospiterà quindi un innovativo progetto che porta all'Elba musicisti di livello internazionale Un festival in miniera che spazierà dalla musica operistica ai crossover e rivisitazioni artistiche tipiche del XXI secolo nella suggestiva cornice naturale della miniera del Ginevro a Capoliveri Dal 9 a 13 luglio infatti si terrà la prima edizione del Magnetic Festival un progetto musicale unico organizzato da Maggie Art Associazione Culturale Artistica patrocinato dal Comune di Capoliveri con la collaborazione di aziende privati e volontari Il festival sarà caratterizzato dalla presenza di gruppi musicali internazionali che gli organizzatori hanno invitato ad esibirsi in uno scenario paesaggistico di rara bellezza e in un contesto culturale di assoluto prestigio con la volontà di trasformare questo evento in un'occasione di riscoperta dell'arte musicale in ogni sua espressione l'operetta la lirica la musica classica e barocca Il tutto con lo scopo di offrire al pubblico un'occasione di entrare in un sito unico e affascinante incastonato all'interno del Parco Minerario che, per l'occasione apre i suoi cancelli agli ospiti che potranno godere dell'eccellenza musicale degli artisti durante le cinque serate della manifestazione Il festival inizierà giovedì 9 luglio con l'opera Il Rigoletto di Giuseppe Verdi eseguita da Fantasia in Re una delle più brillanti e vitali realtà nel campo della lirica Venerdì 10 l'Anfiteatro di Roccia Ferrosa accoglierà la musica da camera barocca suonata da Il Giardino d'Amore Barocca Orchestra un coinvolgente gruppo di giovani musicisti provenienti da Polonia Italia, Spagna e Francia Sabato 11 luglio sarà la volta del quartetto d'archi Bon Quartet artiste londinesi famose per i loro crossover tra la musica classica e il pop Domenica 12 luglio sarà la compagnia di operette Alfa Folie a deliziare il pubblico con le note della Vedova Allegra decretata da oltre un secolo l'operetta delle operette La rassegna si chiuderà lunedì 13 luglio con le voci soprano di Appassionante tre giovani artiste che in modo accattivante e appassionato presentano la mediterranea energia della tradizione lirica italiana Vediamo ora come Don Giorgio Matera ha celebrato i 60 anni di sacerdozio a Marina di Campo la sua città natale c'è stata una giornata dedicata al sacerdote elbano più anziano la messa è stata concelebrata dal vescovo Monsignor Carlo una giornata dedicata a Don Giorgio Matera in occasione dei festeggiamenti a Marina di Campo suo paese natale del 60esimo anniversario della sua ordinanza sacerdotale Don Matera ha sempre vissuto sin da giovinetto con la famiglia nell'osservanza della morale con i valori cristiani ha compiuto i suoi studi nei seminari di Massa Marittima Siena e Firenze e l'ordinazione sacerdotale avvenuta il 29 giugno 1954 a Massa Marittima ha svolto la sua intensa azione pastorale avendo la responsabilità della conduzione e cura delle comunità cristiane iniziando come cappellano dello stabilimento di Talzider di Piombino quindi è stato nominato parroco di Rio nell'Elba e in seguito gli è stata assegnata la parrocchia di San Giuseppe di Portoferraio attualmente è parroco a Procchio e Sant'Ilario è sempre stato impegnato con continuità in attività sociali culturali ed educative nella giornata del 3 luglio 2015 alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Gaetano a Marina di Campo il vescovo diocesano Monsignor Carlo Ciattini assieme a Don Giorgio e affiancato da Don Mauro Renzi e da Don Gianni Mariani ha concelebrato solennemente la Santa Messa coadivato da 10 sacerdoti di varie parrocchie e con animazione della corale parrocchiale Scola Cantorum di San Gaetano durante il rito sacro Don Giorgio ha preso la parola ringraziando i partecipanti e parlando della sua vita sotto l'aspetto umano con impegni opere e azioni poi ha voluto ricordare la sua sollecitudine per fedeli sofferenti e in difficoltà rivolta soprattutto verso i giovani successivamente nell'Omelia il vescovo ha parlato della missione della chiesa e della partecipazione piena e profonda dei fedeli espressione di amore e di unità altri interventi sono stati fatti da Anna Cocchi da Nunzio Marotti e da Maria Rosa Cignoni rispettivamente espressione della comunità di Marina di Campo Portoferraio e Rio Elba infine Don Gianni ha letto per il fausto avvenimento la benedizione apostolica di Papa Francesco a Don Giorgio è tutto anche per questa edizione del nostro giornale vi ricordiamo che subito dopo andrà in onda la consueta rubrica del lunedì weekend live questa sera presenteremo la 43esima edizione del premio letterario internazionale Raffaello Brignetti che si appresta alla serata finale prevista per l'11 luglio la Deleuze vedremo poi la festa del comitato di Carpani la festa che domenica la scorsa estata ai giardini di Carpani la festa di inizio estate parleremo poi di un torneo interforze un torneo di calcio a 5 dedicato a Damiano Damiani vedremo la cerimonia di premiazione tra le altre cose e poi vedremo la presentazione del libro di Carlo Mazzerbo questo e altro comunque nella rubrica weekend live in onda subito dopo il nostro Tg per quanto ci riguarda per il Tg è tutto vi ringraziamo per averci seguito e a tutti un buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.